Non si tratta di idee nuove. De Gasperi e la sua generazione hanno enunciato questi principi oltre sette decenni fa. Eppure siamo ancora qui a parlarne. E per andare avanti serve volontà politica. Abbiamo bisogno di unità e soprattutto abbiamo bisogno del profondo senso di impegno verso l'ideale europeo che ha sempre contraddistinto la classe politica italiana. Lo stesso impegno che abbiamo sentito quando si è trattato di affrontare la sfida della migrazione, una questione che continua a dominare i nostri dibattiti e le nostre discussioni non solo in Italia ma in tutto il continente. Il patto sulla migrazione e l'asilo che abbiamo adottato all'inizio di quest'anno dopo un decennio di impasse politica offre un percorso da seguire. Proteggerà le nostre frontiere ma sarà anche equo con coloro che hanno diritto alla protezione. Sarà fermo con coloro che non hanno diritto e devono essere rimpatriati rapidamente e in sicurezza. Soprattutto sarà intransigente nei confronti delle reti di trafficanti che sfruttano i più vulnerabili e trasformano la migrazione in di un'arma.